ciao da marilena di macchine per cucire dei mille oggi dal nostro store di belluno all'angolo delle tagliacuci voglio presentarvi questa innovativa tagliacuci bernet b68 airlock airlock perché ha già una tecnologia che piace tantissimo per chi conosce le tagliacuci che è l'infilatura pneumatica ad aria infatti un po il problema principale di tutte le tagliacuci è quello dell'infilatura che molto spesso è noiosa precisa e se non la si fa perfettamente la tagliacuci non lavora bene questa macchina è una macchina che ha l'infilatura ad aspirazione infatti basterà prendere questo tastino e i fili del crochet verranno infilati facilmente infatti basta andare a premere questo pulsantino che ci metterà la macchina in infilatura girare il volantino nella giusta posizione scatteranno i canali che vanno a chiudersi e tremendo questo pulsante la macchina andrà ad aspirare il filo infilarlo automaticamente le macchine tagliacuci sappiamo che sono delle macchine che si dividono in due grandi tipologie le macchine che fanno esclusivamente l'overlock cioè il punto di rifinitura per tessuti molto sottili ma anche grossi elastici a tre fili o quattro fili e poi ci sono le macchine cover quelle che fanno il punto di copertura per capirci la doppia cucitura che troviamo in fondo le magliette per fare i bordi ecco questa è una macchina combinata cioè fa sia overlock che copertura e anche combinandoli insieme infatti ha tre crochet per poter fare queste funzioni e addirittura arriva fino a 31 funzioni 31 punti perché i punti si possono anche combinare e questo ci darà l'opportunità di arrivare su tutti i tipi di tessuti e andare a ovviare qualsiasi problema di rifinitura e confezione proprio con una confezione industriale di alta qualità la macchina si presenta con tutte gli optional possibili per poter essere comode infatti come già vedete corredata da un banco grande che si può andare inserire facilmente senza neanche chiedini e questo ci darà l'opportunità di appoggiare facilmente capi molto grandi ma dall'altro canto la macchina è anche un abbraccio libero quindi togliendo questa parte la macchina diventa braccio libero ottima soprattutto quando dovremo andare a fare punti di copertura su colletti maniche urli di pantaloni essendo una macchina combinata copertura e overlock anche i suoi pianeti addirittura di due tipologie quello normale per quando si utilizza il braccio libero e quello più grande quando si utilizza questa lunga base e anche il levano per poter raccogliere i ritagli di tessuto quindi veramente totalmente corredata e anche l'utilizzo della ginocchiera questo strumento che ci permetterà di alzare e abbassare il piedino facilmente semplicemente muovendo la leva al ginocchio e quindi potendo avere le mani sul nostro capo sempre pronte senza dover staccare la mano dal capo per utilizzare la leva al piedino che comunque è presente è una macchina completamente meccanica quindi non abbiamo display motori dispositivi schede elettroniche è una macchina meccanica però di alta qualità e precisione fa veramente un ottimo punto un ottimo roulette e soprattutto un ottimo punto di copertura su tutti i tessuti anche i più elastici siamo corredata di un piccolo fogliettino che ci aiuterà a fare delle semplicissime regolazioni che sono quelle di tensione la macchina lavora con tensioni unificate lasciandole tutte a quattro solitamente la macchina mi fa un classico overlock perfetto però se noi dovremmo andare ad affrontare tessuti diversi o punti particolari dovremo fare delle variazioni che poi sono facilmente descritte poi la macchina ovviamente anche le regolazioni di lunghezza e margine di taglio che ci va a regolare un po' la larghezza delle punto nonché il differenziale che ci aiuterà ad affrontare tessuti elasticizzati o molto sottili senza avere l'effetto onda o l'effetto grinza quindi per poter arrivare su tutti i vari tessuti perché mi piace molto questa macchina perché una macchina combinata con infiliatura ad aria e ribadisco è veramente molto importante questo fattore dal momento che la macchina è una combinata quindi il passaggio da overlock a copertura non è sempre semplice sulle altre macchine invece con questo lo facilita molto e ha un prezzo veramente interessante perché risulta simile a una macchina overlock ad aspirazione di buona gamma quindi avremo tutto ad un prezzo veramente contenuto ultime cose da dire e lo vedete da voi ha un'ottima illuminazione led e anche un ottimo spazio perché sono ben 13 cm di spazio dalla destra degli aghi quindi possiamo mettere un bel po' di materiale per qualsiasi informazione ma soprattutto per la vostra offerta economica personalizzata per avere la promozione contattatemi via telefono o via whatsapp allo 0437 94 30 62 oppure scrivetemi a infochiocciolamacchine per cucire de min.com ricordatevi che tutte le macchine sono acquistabili anche in com moderate senza busta paga un abbraccio da marilia di macchina per cucire de min